ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario lth1 informazioni commerciali titolare camon spa concessionario camon spa confezioni lth1 pasta in siringa 30 g formulazione malto da orzo cordy cepsinensis 5 per cento ganoderma lucidum 5 per cento coriolus versicolor 5 per cento echinacea angustifolia 1 per cento e leucerococcus senticosus 1 per cento un cariatumentosa 1 per cento coenzima q10 prodotti del lievito additivi additivi nutrizionali 3 a 700 vitamina e tutto racca al fatto coferile acetato 10.000 mg barra chilogrammi 3 a 300 vitamina c 15.000 mg barra chilogrammi vitamina b12 3 mg barra chilogrammi 3b 810 lievito al selenio saccarumice socerevisiae cincmi 3060 inattivato silenio 00 22 mg barra chilogrammi 3b 605 solfato di zinco monoidrato 470 mg barra chilogrammi zinco 199 28 mg barra chilogrammi 3 c 322 monocluridrato di l lisina tecnicamente puro 50.000 mg barra chilogrammi additivi organolettici estratto di camellia sinensis co e 451 25.000 mg barra chilogrammi estratto di curcuma co e 163 30.000 mg barra chilogrammi additivi tecnologici e 262 di acetato di sodio 4000 mg barra chilogrammi e 202 sorbato di potassio 4000 mg barra chilogrammi e 281 propionato di sodio 4000 mg barra chilogrammi e 415 gomma di xantano 4500 mg barra chilogrammi e 551 bisilice colloidale 1000 mg barra chilogrammi componenti analitici proteina grezza 9 per cento fibra grezza 0 e 01 per cento grassi grezzi 1 e 20 per cento ceneri grezze 0,80 umidità 55,00 per cento indicazioni mangime complementare in pasta per gatti posologia somministrare come complemento della razione giornaliera direttamente in bocca o nell'alimento 1 gr di pasta a gattini e adulti fino a 4 chilogrammi 2 gr nei gatti adulti oltre 4 kg 1 volta al giorno o secondo parere del medico veterinario 1 gr di pasta corrisponde ad 1 linea nera della scala graduata dello stantuffo fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato